Parte dalle medie la rivoluzione verde nelle scuole di Auletta, in prima linea nella sfida Plastic Free, il comune in questi giorni ha avviato la distribuzione del kit di posate in policarbonato. Agli studenti è fornito un piatto, le posate, un bicchiere, un sacchetto contenitore, tutto lavabile e riutilizzabile per i passi successivi. Su proposta della commissione mensa preseduta dalla professoressa Dania Gavioli, si è deciso di cambiare registro nella gestione dei servizi di riflessione scolastica, puntando su nuovi materiali più ecologici, così da eliminare i prodotti in monouso e ridurre i rifiuti. Dall'amministrazione comunale parlano di un piccolo passo verso la riduzione della plastica, scegliendo come soluzione più rispettosa per l'ambiente il passaggio a materiali alternativi come quelli lavabili, poiché i compostabili e biodegradabili avrebbero comportato l'onere dello smaltimento dell'umido presso la piattaforma convenzionata di Eboli, il che avrebbe inciso sui costi e sui consumi energetici. L'utilizzo delle stoviglie pluriuso a scuola rientra nella visione comune sulla questione ambientale che appassiona tutta l'amministrazione comunale, rientra nelle politiche di impegno a ridurre l'impatto dell'uomo sull'ambiente. La gestione ecosostenibile del servizio innesca anche un percorso educativo che coinvolge i ragazzi e le loro famiglie, stimolati così a comportamenti virtuosi orientati al riuso e non all'usegetta e quindi sensibilizzati alla cultura dell'ambiente della salute umana.